CEM cavi speciali è un'azienda di riferimento in Europa per la produzione di cavi dati per internet industriale e bus di campo e dal 2016 è parte del gruppo LAP. L'ingresso di CEM all'interno di LAP ci ha permesso di implementare le nostre capacità produttive e di consolidare le nostre competenze per quanto riguarda le tecnologie per le fabbriche intelligenti, rafforzando il nostro ruolo di leader di mercato per i sistemi per le trasmissioni dati industriali. Il sito produttivo di Monselice a pochi passi da Padova ha raggiunto nel 2018 una produzione annua di 35.000 chilometri di cavi ed è la fabbrica di riferimento LAP per quanto riguarda i cavi bus ed ethernet industriali dei nostri marchi Unitronic ed Etherline che vengono poi distribuiti in tutto il mondo. In media infatti l'8% del fatturato anno viene rivestito in innovazione, nuove tecnologie ed integrazione del processo produttivo con l'obiettivo di garantire e offrire ai nostri clienti un'offerta 4.0 sempre più completa, diminuire il time to market e diminuire il lead time. CEM Cavi Speciali è uno dei siti principali europei del gruppo LAP, è situata in uno stabilimento di circa 16.000 m2 per la realizzazione di prodotti del mondo 4.0. Una forza produttiva che mette a servizio e a disposizione del cliente una serie di servizi e ottenendo circa 300 nuove soluzioni all'anno. Insieme all'innovazione i nostri principali driver sono l'efficienza e la scelta strategica di tenere sotto controllo l'intera catena del valore ci garantisce un'alta qualità dei prodotti. L'industria 4.0 è una parte del nostro DNA, con l'obiettivo di trasformare nella fabbrica del futuro, abbiamo realizzato internamente un software per la gestione integrata del flusso produttivo. Uno strumento fondamentale per rispondere alle esigenze dei clienti, migliorando costantemente i nostri processi produttivi, riducendo il time to market. Per esempio la configurazione del paperless ci dà la garanzia di poter leggere attraverso scansioni ottiche al 100% la compatibilità e la correttezza delle materie prime utilizzate nei prodotti, eliminando ogni possibile errore. Ogni linea di produzione è dotata di controlli in real time quali vengono registrati dalla piattaforma e analizzati per poter migliorare negli step successivi la qualità dei prodotti.